Forza e onore, forza e onore, forza e onore. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Massi Giancarlo Mura Federico, seconda chiamata. A seguire, si preparano gli atleti Gigliotti, Giovanni, Barbieri e Paolo. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti